...sintonia, ok? Mi chiede con voi, buongiorno, sia lucemas. Junto con me mi tiene Nathalie, Nathalie Antonia Petronia, è il direttore di Radio Mastro 29 Camina, también mi da forma parte, che mi da turca, mi non ti chiede, mi chiede, mi chiede, mi chiede, mi chiede la radioenergia online per nos mantenere un rato, posso la cabina, se inscripciò di alcun tumbo, Nathalie, buon tardi, buon venimento con noi, qui nella radioenergia online, potremmo stanno mirando e escoltando. Grazie, Robertico, grazie per la entrevista, buon tardi a Turbo Televidente, non ti escolti anche come oiente, con no ti mira, però mi ti dà dubbi, e se hai pa sobra, mi non ti dà online, tu non ti dà 2D1, che mi non ti dà 2D1? Correto. Ma ti chiede, mi chiede, che parte di inscripciò della composizione di Gio, mi chiede? Si, mi inscrivi 3 composizioni, 2 di Gio, 1 di G-Spot, e ora mi pone un po' di Dac di Gibi Doran, che men Gilbert su 3 composizioni, e la manda a mi inscribir, 2 di Gio, 1 di G-Spot. Ok, che men, in total, quanto tumbo Gio ti ha di H2? Bossa, mi ti ho pensato, secondo me, 95 tumbo. 95, come è sobrano il silo, vai... Correto, mi devi inscribir, corretto, si. Non ti ho pensato, da me inscribiri anche a Gio? Bom, ora che mi ha acabato di inscribir, è Ivan O. Willems, che è un cantante, che mi ha chiesto di diverse bandi, ultimamente, del Cacchetto Deluxe, e anche Gio, che è una trama titolare, Furukutin Trabo, che è anche Gio, che è una trama di Banda di S. ma inscriviti anche a Rainier Leifrock, con una tumba di G.B. Doran, che è un giro fortissimo e inscriviti anche a Jens Silvani, cantante di G-Spot, con una tumba di Gilbert, che è una schiena Anci Rainier ha dato un stop? Sì, ha dato un stop, sì, Rainier è anche un giro fortissimo Grazie, è sicuro che non sto藏ci la capacità di Rainier, Rainier è un giro è un cantante con maleva, è un giro, è un... è un giro, adattaste, suoi adattarsi, sui amici, sui amici, per ogni agruzione musicale, sicuro Rainier è un caso speciale Grazie, grazie, naturalmente, ci sono informazioni qui, per Арussi, ci siamo continui a noi, nessuno segui naturalmente con más informazioni. Èxito. Buon mensaggio per me che voi per la televisione e la radioenergia online per la temporada di carnaval e sicur, il Festival di Tumbo che sta arrivando. Buon, mi ti spero che non ti disfrutate immensamente di la temporada per una maniera sempre, non si vissi sempre, goza, non mi dimenticare la responsabilità, non guarda sempre con noi, ma sono e sei che è stato un tremendo giudico show. Buon esito, mi ti goza, buon empegno, buon te persevera, buon te pusha per andare avanti e mi ti desea buon esito. Grazie, Nati. Ok? E se ti ringrazio?